Signore e signore, non solo buonasera e bentornati a MarcoPlays Hollow Knight La scorsa volta abbiamo iniziato, o meglio avremmo anche completato il gioco ad un certo punto di vista perché abbiamo fatto la battaglia contro il Cavaliere Evacuo, però non quella completa perché quella completa prevede anche di colpire il Cavaliere Evacuo quando Ornith interviene per fermarlo con l'acqua dei sogni e quindi intraprendere lo scontro contro lo Splendente lo Splendore, non lo Splendente, perché mi confondo tra Splendore e Splendente, ma vabbè una battaglia un po' ardua che ho provato a fare più e più volte la volta scorsa senza però riuscire anche perché il Cavaliere Evacuo in sé non è così tanto difficile soprattutto per come sono messo io con l'aculio normale, con lo Scudo, non è così tanto difficile si può anche fare provando a pressare in attacco più che sulla difesa però il problema è che bisogna rifarlo ogni singola volta più di poter arrivare alla fase dello Splendore ed è un po' ripetente, come dire, è un po' una seccatura il che può portare anche a fare degli errori perché ti secca. Ora facciamo il cambio di sorgente invece lo Splendore si inizia un pochino a capire meglio i vari Patrim perché effettivamente i Patrim non è che siano così difficili, per fortuna sono abbastanza comprensibili, però può essere molto stronzo tipo che c'è il momento in cui ti lancia le sfere dorate e te le puoi ritrovare anche proprio dove ti sei messo in quel momento anche perché poi ad un certo punto inizia a mettere delle spine sul terreno in certi due terreni quindi ti devi spostare e magari in quel momento ti può anche capitare che le spine siano proprio, o meglio, i globi dorati siano proprio dove ti ritrovi bene, allora, un attimo che intanto devo riprendere le mie cari anime tanto non c'è più problema da questo punto di vista perché ormai l'anima, non le anime, Geo è l'anima perché l'anima ha accettato il suo ruolo fatemi mettere anche la chat di Twitch così possiamo partire veramente e spero sul serio di poter andare avanti, di poter battere lo splendore oggi così ci avviciniamo veramente alla fine della serie che non sarà questa puntata se dovessi battere lo splendore lo splendore sì però non è neanche troppo lontano anche se ci sarebbero tutti del sì da fare è il terzo, è la terza prova del vabbè è la terza prova del Colosseo ecco, vabbè ricordiamoci un pochino eccoci qua Cavaliere a noi un po' troppo in attacco però chiaramente troppo in attacco no no, ho esagerato un po' troppo con l'attacco questa volta va bene andare di attacco però così è troppo più che altro ho qualche attacco caricato in più non ce l'ho fatto a farli questa volta ok ok ricaricarsi ok ok e iniziamo questo nuovo scontro contro lo splendore splendido splendido splendente è qui davvero con calma con molta calma anche perché dobbiamo ancora riparare la seconda fase Perché sì, questo boss ha una seconda fase Mannaggia Lo splendore Quindi iniziamo No Pochi danni Che poi c'è anche lo scudo che in realtà fa danni Vabbè però Che fa niente Va benissimo No No, ho spagnato Ok No Meno male No No, madonna No Devo riprendere la mano anche se è passata una sola settimana Buon Dio Oh perfetto ok brutta posizione no non sono concentrato non sono concentrato abbastanza questa sera scusate un attimo che sto controlando alcune cose ok andiamo ok 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 io ho riparsi Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì via! bene! tempo di sprintori un'altra volta e questa volta speriamo di fare una cosa migliore che fortuna che ho avuto questa volta! ok! no! di che cosa? no! ok! ok! meno male! un attimo perché... ah! mi stavo prodendo un attimino qua! lo sapevo! due volte di filo però no! no! ok! no! quanto! no! scemo! vabbè! si per un pochino di pausa grazie! no! ecco per un pochino di pausa! no! ok un attimo! no! si ma... aspetta! forse stavo passando alla seconda fase! no! che cos'era quella? forse la seconda fase effettiva! no! mannaggia! no! no! Vieni! Oh! No! No! Que no male! Che costa! Via! No! No! Che cacchio! Mi stiamo lanciando il cacchio! Eh no però! Che poi in realtà questo momento in cui si può fare... possono fare più danni! Aaaaaah! No! 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 Che cacchio! Ok! 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 No! Ok! No! Aaaaaah! Aaaaaah! No! Questa volta no, quindi mi stavo avvicinando, maledizione. Cioè io voglio essere attento, però cazzarola. In certi momenti è proprio stronzo. No, il voglio rimacolo. Sì, sì, sì. Nooo! Ho spagnato proprio i tasti! Ok, a posto, non è male. Per un attimo confuso da quello dei sogni con quello normale, vabbè. Via! Vediamo cosa che fai. Ok. Sì, ok. Ok. Ci sono stati missili molto maggiori come attacchi da parte dello splendore. Ok. Uh! Angolo giusto. Ma molto! Ecco, mancavano. Mancavano le palle dorate. Che modalità pietà da parte tua perché... Ecco, ecco, ecco. Devo stare in silenzio. Calma. Ok. 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 Anche io però. Ehm... 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 Seawar, mi sento molto splendido, veramente. No, ho avuto un momento proprio di defaianza adesso. Maledizione. Ehm... Stavo andando bene sul nitto. Anche perché il nitto è stato molto facile rispetto ad altre volte. Ehm... Allora, un secondo. Che adesso riprendiamo un attimo. Ok. Riprendiamo. Ehm... Ah, War, giusto. Ti devo chiedere una conferma. Ehm... La... Due volte fa che ho provato a fare lo splendente... Lo splend... Lo splendore, sì. Lo splendente. Lo splendore. Si stava iniziando a sollevare una maria nera quando sono morto. Per caso quello fa parte della seconda fase perché penso di sì. Ehm... Ok. No, quello non penso. Non mi sa... Non posso vedere lance dall'alto. Oi. No. Ok, perfetto. Ok. No, lancia dall'alto no. Però forse era la fase poco prima perché... Ah no, forse sì, forse sì. Lancia dall'alto. Forse sì. Forse sì. Ok. Ok. Eh, si inizia bene qua. Giustamente dopo l'inizio soft di prima. Va bene. Ok. No, no. Ecco, ecco. Già iniziamo. Ma no. No, 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 no. Mi rifiuto. Ecco le lance dall'alto. Ok. Bene. Va bene. Ok, a posto. Meno male. Oi. Riusciamo io. Ricarichiamoci. Minimo. Ok. Perfetto. No, 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 no. Meno male però. Che fortuna. Qui sì. Qui sì. Ah no. Qui mi sono soltanto le vitale, va. Non pensiamo ad attaccare. Adesso sì. In questo momento. Ok. No. 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 Meno male. Scudo. Grazie. No. Ne approfitto, ne approfitto, ne approfitto, ne approfitto. Ok. Mi sa che è questo momento. La seconda fase. La seconda. Eh. Scemo io perché l'ho fatto. No. 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 Non posso ricaricarmi in alcun modo. No. Ah. 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 E che diamine. Allora, come cacchio faccio a far finire là con tutte le lance dall'alto? Devo continuare ad attaccarlo? Sì, ma quando? L'attenzione è là al massimo. Comunque sì, mi sa che era la... Allora, sì. Sì, sì, sì. Perché mi ricordavo male. In realtà sì, c'erano tutte le varie lance dall'alto. Ok. Eh. Eh. Con tutto questo arriva alla seconda fase. Vabbè, comunque vuol dire che ci stiamo avvicinando. Ok. Beh, cacchio. Mai così veloce con il cavale evapua. Andiamo. Ok. 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 Fa niente Intanto mi ricarico qua Uh No Meno male Meno male Il tempo Che fortuna Vabbè scemo io anche No Dai con calma adesso Vorrei la calma però Cosa cacchio ho avuto di fortuna Ok Eh vabbè Eh si Sto sprecando la fortuna Sto sprecando la fortuna chiaramente Eccoci Quindi Aspetto un attimo Piccolo segreto Scusate perché sto leggendo Ah ok Ok va bene E' questo qui il punto No Dopo Ah questo punto Ok Oh no Ah no Mi sa che questo Aumento Ah oh Ok Eh mi sa che durerà ancora un po' Scemo io Ok meno male Meno male che Oh no 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 Ok a posto Torna qui bene No Troppo vicino Ma pure No No Meno male Meno male che Mi posso caricare un po' No Scemo io Ok Ok a posto Ok a posto No Che succede Non mi ricordo qua Ah ok No No Qui con molta calma Comunque Ehi Buonissimo così Molta calma comunque Maledetti Maledetti No Cosa Come ho fatto a evitare Va bene Questo Devo colpirlo un pochino Senza farmi colpire Esatto No 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 E devo riprendermi War Dimmi quanto ero arrivato vicino Che poi comunque Se devo essere sincero La seconda fase Pensavo fosse più Più stronza Cioè Mi aspettavo che Diventasse qualcosa di molto più complicato O meglio Sì Non hai più il terreno sicuro Però Io temevo A prendersi Diventavessi una forma Proprio alterata Ancora di più Dai 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 Potremmo farcela anche questa sera Allora Dai 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 Ok 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 Hmm Ok, a posto Ah, anche una del staff Ah, io... Non fare cose stupide, dici? Le farò, le farò, le farò Anche se non voglio Guarda, War, mi dispiace dietro Ma le farò tranquillamente Ok, guarda Guarda, vi faccio vedere già le cose stupide Ecco, vero male, ecco Vabbè, già iniziamo, eh Vai Ok No, che cacchio Vai In mezzo, in mezzo, in mezzo In realtà, effettivamente, le spalle da avere dall'alto Hanno degli spazi ulteriori Non sono solamente quelli più grandi Solo che devi avere molta precisione o fortuna O entrambe le cose Ecco Perché? Perché l'ho fatto? Qua, calma Ui Eh, adesso è arrivissimo Ui Ok Ok Sì, vabbè, però anche io, eh Ho detto anche io Ok, meno male Ok Ok Ok, meno male Ok Con calma adesso No, ho detto con calma Non di rabbia e prepotenza Ah Ma perché? Ok, meno male Ah, ho detto meno male Ok, meno male Adesso, sì Ok Ah, tra poco inizia la fase Tra poco inizia la fase Eh, non c'è voluto neanche molto per la fase Ui Quando è che ritorni? Eccoci qua Ah, no Eh, vabbè Ma poteva anche andare Ah No Vabbè Una sola vita qui Ok, fa niente Ce l'ha, siamo qui Ok Vabbè, però Ma quando è che Prima non vi cava già tutti questi attacchi? Oh, io vabbè Ok, io però No Vabbè, però Deo grazia No Ok, a posto Non male Devo colpirlo un po' No, eh Ah Era perfetto qui per riposarsi Ok Ecco qua No Molto peggio di prima Qua come attacchi comunque Molto peggio di prima No 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 buia ok ok con calma ok oh a posto eh eh il problema è come si incrociano e quello è il fatto via si 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 esatto chiamiamolo anche incrocio della morte va vediamo com'è che ah si parte subito eh va bene ok però è anche tu no bene con calma no ma no no meno male che ho recuperato un pochino raggi no oh meno male via no vabbè però ma no vabbè però no minimo 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 via no che cacchio ok meno male ok ok no perché no ok no e vabbè no e vabbè no e e così no cioè c'è il raggio della morte che ti che ti arriva dal lato e poi l'improvviso ti fai dall'alto e no e no e questo è stato proprio stronzo proprio molto ma molto combinazione molto ma molto spiacevole diciamo cos'è e 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 a posto a posto via adesso con un po' più di fortuna per favore e grazie perché prima abbiamo avuto anche colpi di sfortuna da cosa inizi oh va bene con calma ecco per l'appunto arriva il momento di scacchio con calma con calma adesso e vabbè ok con calma no no senti e 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 perché ma perché ma perché io voglio terminare questa sera è chiaro non voglio non voglio fare un'altra puntata con splendente è necessario quindi per favore un po' un po' un po' di grazia splendente splendente no splendore un po' di grazia splendore per favore ok ok non fa niente qui non fa nientissimo qui l'ho sbagliato io qua oh ho sbagliato io qua ok qua niente importante eh ui uuuu no adesso sono gettato purtroppo mi sono mi sono mi sto arrabbiando e allora non riesco a fare le cose come si deve invece un po' di calma mi sono mi sto arrabbiando perché per le ultime due volte dopo essere riuscito ad arrivare vicino alla terza fase a questo punto direi oh ok 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 no ui che cacchio sfiga abbiamo da recuperare tranquillità niente ok che fai di prendere un attimo ok 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 ah dopo questa ok 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 tranquillità massima se faccio con la curia qui no non posso fare perché se non c'è dei sogni giustamente ok dove sei non c'è di non c'è di E poi questi si schiantano anche contro le basse adesso Fa niente, fa niente, si recupera Nooo Nooo Si No Devo utilizzare più l'attacco spirituale perché quello mi serve moltissimo quando non sono vicino Perché non lo utilizzo qua, non sono, non mi viene mai in testa Sì poi adesso facciamolo qua Eccoci qua Eh scemo io Scemo io perché non mi aspettavo che continuasse Che fortuna Che fortuna Eh vabbè troppa fortuna ho preteso Ok Che muoio anche fa niente Scemo io No Brutto torno Brutto torno Brutto 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 Ok Ok No Ok che cacchio qua che cacchio qua che cacchio qua qui è sfiga adesso è sfiga ok e cinque colpi caricati no ok benissimo dopo due faianze si ritorna allo splendore che cacchio qua che cacchio qua no evitare qua evitare ok 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 no no che cacchio qui sono in contatto bene molta calma tranquillità no grazie scudo grazie grazie due volte va benissimo così perfetto ok ok perché no 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 Anche per Per la serie in sé Se spendo due puntate così tanto Va bene per la serie di 300 puntate su Sans Però questo non è Sans Questo è molto più facile di Sans Ci avrò spesso da 5 puntate Soltanto per ripare ad una A un quarto Della Battaglia Non posso anche più parlare Vabbè che sfiga Ok benissimo così va bene Non ho niente Non ho niente Non ho niente Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' a posto. Dai, che prima ci ero arrivato anche abbastanza vicino, dai, con la calma ce la facciamo, via! E' un piccio di fortuna però, perché quando ci sono certe combinazioni è proprio dura anche sopravvivere. Ok. Ok. No! No, vabbè, allora, basta, mo' basta. Ok. 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 Oh, eccoci qua. Ok, eccoci qua. Ok, perfetto. Ok. 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 Un secondo. Dopo la prima fase appare sempre sulla piattaforma centrale. Ok. Oh, e vabbè. No, vabbè. Ok, va bene, con calma adesso. Ok, perfetto, è tutta calma. Ok. Dove sta? No No Vabbè, fa niente Soprattutto se questo è l'attacco Buono, 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 buono Buono, buono Dai dai che siamo andati io non sto andando male questa volta Ok Ok c'è l'entico qua Ok con le mostre giuste il caviaria evacuolo si fa veramente in pochissimo Inizio col botto Ecco per l'appunto il botto mio Vabbè però eh No vabbè scusatemi No Non è giusto Questo altro non era giusto proprio Dai Veramente mi sa che mi piegherà anche un'ora ma devo fare i colpi solo se sono sicuro Eh che cacchio però Oh Ok Ok perfetto Ok 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 Ok, vediamo... Ah, partì subito Uff, meno male Cosa che fai Meno male, meno male Vabbè, fa niente per adesso Ah Ok Uffa Uff Ce la faccio anche... Uff 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 No Ok Mi ricarico un po' Proprio un po' Ah Ah E perché io ho Troppa poca vita Non sono arrivato con abbastanza vita per affrontarlo A cuor sereno No comunque come dicevo chiaramente Questo non è come Sans di Undertale Sans era infernale Questa è la seconda volta Che provo a battere Lo splendore sono già arrivato alla seconda fase avanzata Ripeto con Sans Era tutta un'altra storia Era tutta un'altra Musica No basta Che me la sono Allora Allora Hmm Ok Ok Che cosa fai? Ah inizio del cielo No Ho parlato troppo presto Uh Meno male No No Vabbè fa niente Fa niente al quarto di che li chiamo Al quarto No 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 Niente No Che cacchio Perché ci ha provato Ok 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 Meno male Eccoci qua Perfetto Perfetto Ok Ok No, 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 no. Non ce la faccio. Mi sto alterando, mi sto alterando. Non ce la faccio. Ok, perfetto. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Perfetto. Ottimo. Vediamo cosa che fai, ok? No. Grazie a tutti. Devo tranquillizzarmi perché adesso è anche rabbia e frustrazione Per questo non sto giocando come vorrei A posto No, meglio così va, la partita male sarebbe finita molto peggio secondo me, meglio così Facciamo così, altri 45 minuti e poi sapete che c'è nel caso anche domani Ma io vorrei finire questa sera, dannazione, non voglio fare tre puntate sullo splendore Perché vorrei terminare questa sera il prima possibile, voglio essere sincero Forse per quello che sto avendo rabbia, o meglio perché altro fretta, eh, non tanto rabbia e fretta Oink Oink Figa Allora, solo un secondo Basta, andiamo Allora, solo un secondo Perfetto Allora, solo un secondo 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 Seconda, seconda Allora, solo un secondo 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 No, non fa niente, ricarichiamo. Anzi, ho capito il perché, per avere vita. No! Uh! No! Va bene così. Ah, cazzo. Cazzo, non poter caricare. Oh! Vabbè, 4. Non è buono, non è male. Non amare. Ui! No! Ok. No, che scemo. No! Ah, ho sbagliato una mossa per una cacchiata. Ho sbagliato una mossa per una cacchiata qua. Ah. Famo altri 20 minuti e poi nel caso si fa anche domani. Non me ne frega niente, scusami, Ruki Double, però... E che proprio... Non ce la faccio aspettare fino a lunedì prossimo per poter completare lo splendore, perché... Dire ce l'ho è un po' esagerato, però... Diciamo che sono abbastanza vicino ad arrivare alla terza fase. Diciamo che... no anche di più ma oggi facciamo puntata veramente speciale ok sono speciale sperando che migliori che lo splendore veramente si spenga nella prossima facciamo mezz'ora non lo so quanto ancora oh subito eh nooo nooo ok perfetto nooo maledizione e che sto anche sperimentando adesso per vedere un po' di mettermi in testa che l'attacco caricato dello spirito è una cosa che funziona e che può essere non utile super mega giga utile ok che ti prendi un bel po' ho visto perfetto si si fa niente si si bello nooo ok a posto perchè ogni volta che ci provo fa sempre male nooo 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 No Non è male, ah oh Ok. Ok. Perfetto. Nooo. Madonna. Ormai non vedo più altro che questa zona. Aia le dita anche si stanno stancando. Ok. 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 Cominciamo. Nooo. Ok. Nooo. Ok. 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 Non posso far finire così la puntata Adesso è stanchetta con frustrazione No, non è giusto Nei confronti del pubblico Anche se uno Non è giusto che mi mostri così Non è giusto 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 Troppa frustrazione adesso Facciamo una cosa Alte tre tentativi E poi se non si riesce Si fa domani Si continua domani Si altra la programmazione Niente autodouble Per domani almeno Poi penso mercoledì a questo punto Non lo so poi Non lo so Dipenderà da quando cacchio Finirò con uno splendore Non lo so Eh no 6 di mattina No grazie per favore Non stavo neanche più guardando lo scan Scusami perché stavo leggendo qua Scusami 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 Tu sei passato Tu ti sei messo a provare Allora questo non lo accontro in tutto Scusatemi Un attimino di Non sto neanche riuscendo a parlare Ah beh Vabbè dicevo Tu sei stato a provare a battere lo splendore Fino alle 6 di mattina Oh cacchio E lì la stanchezza è letale Cioè come fai? Perché immagino anche che tu abbia iniziato Tipo alle 10 11 11 E un po' tanto eh Cioè complimenti Complimenti però È ancora peggio di adesso Cioè figurati Io in questo momento Sto già mostrando segni di stanchezza evidente A mezzanotte Figurati un'altra persona Alle 6 di mattina Dopo chissà quanti tentativi Come ho fatto qua? Ok va bene così Ripetiamo Questo è il primo tentativo serio Eeeh Ti prego No temevo di non farcelo in tempo questa volta Cioè 5 ore di fila E cacchio però 5 ore di fila Che io non è che stia scherzando questa sera Con tentativi filati contro lo splendore No Ok Con calma Vabbè però Anche voi Meglio No 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 Ok Ok è un andato non 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 no 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 Come? Non ho capito come esattamente. No, questo non l'ho capito. E non ho senso... Che cacchio mi ha spostato là? No, questo non lo considero come tentativo però. Adesso è il secondo tentativo. E no, perché... Diciamo che considero quelli contro lo splendore come tentativi, ecco. Me la sono girata a modo. Ripeto, solo quelli contro lo splendore, no. Inizio alla grande... Vabbè, dai. Devo ricaricarmi in qualche modo. Menomale. Non, 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 non. Così ha... Perché? Non ho capito Vabbè, grazie No, strano, perché me l'ha fatto per quattro volte di file? È stranissimo Sarà grazie allo scudo, penso Però così è strano Non ho capito Ok, adesso si Secondo tentativo che sta per iniziare E come dice sempre Ornett Get da Get da Vabbè, fa niente Nooo, troppo basso Vabbè, fa niente Fa niente, fa niente, fa niente Terzo Oh, il quarto A posto così? Ok No Nooo No, 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 no Nooo Cacchio Stavo arrivando alla seconda fase Dopo... Eoni, eoni Vabbè Terzo e ultimo tentativo per questa sera E poi se li prova domani Perché così calmo? Ecco perché così calmo Eoni Eoni Vabbè 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 Uh, meno male Ui Ok No Ok Ow Woo Come No Fa niente Perfetto Dai almeno facciamo un tentativo Alla seconda fase Meglio no Vai Vabbè No Perché continuo a scivolare via? No No Tira bene così Uh, meno male No Mi stanno un po' sudando le mani Oddio, che cos'è? Cos'è? Terza fase Questa di sì? Uh Sì Ok Cosa sta succedendo? Tutte queste anime che sono quelle prese dal No È finita L'ho battuto Oh cacchio Ecco lo spirito del Oh madonna Quella sembra Hornet però I Non ho neanche più un corpo io Sì Sì No, veramente Il terzo tentativo Quello Non ci credo Via, 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 via Vattene via, splendore Vai E tutti quei frammenti di sogno Sono una marea Sono miliardi di frammenti di sogno Che se ne vanno E quindi adesso L'uovo Che diventerà? Nel finale vero Non ci credo Ce l'ho fatta Al terzo tentativo Quando Pensavo Di doverlo fare domani Non ci credo Tutto buio E invece no Luci Luci che ritornano Hornet Era chiaramente lei Allora che mi stava aiutando Là Contro lo splendore Come cacchio Eh sì Sare entrata anche lei Tramite il suo aculio Da sogno Non lo so Hornet è ancora viva Quindi Io sono Sono chiaramente morto Ma stramorto In un modo Che non potrò mai tornare indietro Ma Hornet è viva almeno Ed eccoci qua L'anima del cavaliere evacuo Quello che ce l'ha fatta Che torna nell'abisso Da dove è nato Penso Sieme agli altri O Forse Rimasto No no Che cacchio sto dicendo Sarà Hanno sconfitto Lo splendore Quindi Dove sarà adesso Il cavaliere Forse sì Forse è sempre all'abisso Fine dei sogni E quindi sì Questa volta sì Dopo una maratona Di due ore E undici minuti Anzi Dodici minuti Che si Che andranno ancora oltre Visto che Farò dei commenti Brevi però Perché è tardi Hollow Knight è terminato O quantomeno Il finale vero Quello dove sconfiggiamo Anche lo splendore Quello che ha causato Tutto il macello Immagino Quello che Sì Lo splendore Quello che ha provocato L'infezione Il possesso Il controllo Di tutti gli abitanti Dei molti abitanti L'indosacro Controllo Al di là della vita E della morte Abbiamo visto Il più degli zombie Quindi La morale Ornett vive Il cavaliere muore Perché il cavaliere Ha svolto il suo compito Ha svolto il compito Di liberare Nidosacro Dalla minaccia E perciò Non c'è bisogno di lui Ma di Ornett Sì Ornett è ancora viva E cacchio però Che avventura Mi dispiace purtroppo Per questa serata Mi sono mostrato Un po' Più irascibile Del solito Vabbè Che anche contro Sans di Undertale Mi sono mostrato Proprio Arrabbiato Ma quella è stata Una cosa molto Al di là Della sfera Del normale Dell'umano E anche dell'infernale Quello È un qualcosa Di assurdo Che spero Di non dover più vivere In alcun gioco Questo era niente Rispetto A Sans Questo è niente Proprio niente Ho sofferto Sì Mi sono arrabbiato E come Ma rispetto a Sans Di Undertale O come Certa gente Romain lo chiama Per sfotto Sans Undertale Proprio direttamente Come se Undertale Fosse il cognome E niente Ma tante cose Sono niente rispetto A Sans di Undertale A questo punto Diciamo che Ho toccato L'inferno Con tutto il corpo Non posso Non si può andare Oltre A Sans di Undertale A meno che non si faccia Però vi è un qualcosa Di rotto Al 100% Che Sans In realtà È rotto Al 99.9 Sì Sì Eh sì Lo so Lo so La luce Sì L'infezione La luce Tutti con gli occhi arancioni Sì Ho liberato tutti Mi aspetta a questo punto Scusate per la tosse Meno male che non è come La settimana scorsa Mi coda ancora puntata Per The World And Sweet You Che è stata Drammatica Per la tosse Mi aspetta a questo punto Una bella cutscene finale Post titoli di coda E poi Per Hollow Knight A questo punto Congratulazioni Questa impresa È preservato E hai vinto Hai perseverato Vuol dire Hai perseverato E vinto Speriamo che ti sia divertito A giocare ad Hollow Knight Presso le nostre strade Si incoceranno di nuovo Niente È filmato Aspetta Comunicamento È 89 Sempre Eh Ah Lollo Ah giusto Sì Lollo Knight Originale Quello che Era andato a sconfiggere Giusto Giusto E beh C'era anche lui all'interno Effettivamente Sì Ha più senso Ha più senso Perché se noi entriamo dentro Lollo Knight Originale Che che ci aiuta Lollo Knight Originale Non Hornet Che era fuori a controllare A domare la bestia Quindi Per questa serie Che cosa si potrebbe fare Perché C'è ancora altro da fare È vero Però C'è anche la dire Che ci sono altre serie Che potrebbero Avere la precedenza O comunque sia Altre serie Che richiedono Ancora altro tempo Per essere completate Che magari Per le quali Sarebbe utile Effettivamente Avere una puntata in più Tipo Route Double Proprio quello che ho nominato Route Double Sarebbe molto utile Per Route Double Avere una puntata in più Adesso Visto che Con questa Stiamo andando avanti Nella Route Before Che quindi Tra un po' Feremo anche Quella finale La terza O anche Per The Wardens With You Anche se stiamo ancora Al quarto giorno Quindi non stiamo Troppo lontani Dalla fine Andando avanti così Per Katamari Un po' meno Anzi Molto meno Perché Katamari Di per sé È una serie Piccola Il gioco Non è che duri tanto È bellissimo Ma non dura molto Rispetto soprattutto Come Hollow Knight Che mi è durato No no Mi pare che tu Me l'avessi già detto In passato Proprio Poco tempo fa Sì 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 Quindi Però ammetto Che non l'avevo capito Da solo Ammetto che Hornet Come sorella Dell'Hollonet Non l'avevo assolutamente Capito da solo Forse è stata anche La ragazza Che è intervenuta In chat Settimane fa Comunque sì A questo punto direi Che Non ci sarà Hollow Knight Di prossimo Potrei fare una puntata Da questo sabato Che facciamo un po' Di esplorazione Poi Magari Basta così Esplorazione Nel senso che A questo punto Cosa è che Cioè Da quello che mi ha detto Guarda esempio Il problema È che Hollow Knight Ha altre cose da fare Sì tipo Vabbè La terza prova Del Colosseo È normale Ma ci sono altre parti Che dovrei Riesplorare In maniera Molto particolare E purtroppo Vorrebbe dire Perdere molto O meglio Non perdere Impiegare molto tempo Per Parti Un certo tipo Quindi Direi che Si può fare così Effettivamente Se riesco Se tutto va bene Posso fare una puntata speciale In maratona di Hollow Knight Più rilassata Perché Si esplora Magari anche Mi interattivo A questo punto Mi dite Mi di Mi dici Tu effettivamente Dove andare Per poter Completare ultimamente Il gioco Visto che sono 39% Sono arrivato a 39 Non so come E invece L'unico prossimo Si partirà con Root Double Faremo lunedì martedì Root Double A questo punto È la mia idea attuale Perché così Effettivamente Posso fare Queste varie serie Posso continuare Le serie che hanno bisogno Tipo Root Double Per l'appunto Di Più puntate E Allonette Lo mettiamo un pochino Da parte O meglio Facciamo una puntata Massimo 2 Di Di Extra E poi Direi anche Basta così Vabbè Si vedrà comunque Nei prossimi giorni Settimane Per il resto Grazie a tutti Non tanto Per la visione Ma per avermi Sopportato Questa sera Grazie a tutti Quelli che hanno Partecipato E che mi hanno Consolato E ci vediamo domani Per Root Double E comunque sia Team Sherry Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti